Bentornati, è Peugeot Black Mat, è una delle versioni di quella vettura di grande successo di casa Peugeot, qual è la 2008. Vediamo. Benessere è l'abitacolo inondato di luce, una caratteristica importante affinché il viaggio in auto sia confortevole, appagante ed entusiasmante. La sensazione di immersione e partecipazione all'ambiente è proporzionale alla superficie vetrata che il design concede ai progettisti. Peugeot 2008 Black Mat con il suo ampio tetto panoramico, il generoso parabrezza, il lunotto ed i finestrini di grandi dimensioni è la compagna ideale anche nei lunghi viaggi, poiché la visione del panorama è senza limiti. Così gli oltre 700 chilometri per raggiungere le tortuose provinciali delle serre calabresi sono stati un crescendo d'emozione culminata con la scoperta della Ferdinandè. La particolare tonalità del grigio della 2008 Black Mat, intensa come il ferro di Borbonica a memoria, è stato lo spunto per l'itinerario calabrese. Il taglio verticale del nuovo frontale è l'elemento di spicco della forte presenza su strada di questa versione, identificata dal logo specifico sulla fiancata, mentre finiture di un bel rosso brillante ne sottolinano il carattere graffiante. E' il navigatore che ci traccia la strada e il Peugeot i-Cockpit amplifica le sensazioni che viviamo guidando attraverso gli oltre 3.600 ettri di abeti e faggi delle province di Vibo Valencia e Reggio Calabria verso il giallo dei campi arsi dal sole della costa ionica, dove appare, tra gli eucalipti, il castello di San Fili a Stignano. Costruito all'inizio del 1700 come casino fortificato e parte di una cintura difensiva dalle intruzioni turche con torri d'avvistamento, è un pregevole esempio d'architettura militare voluto dalla famiglia Patrizia dei Lamberti, che fece edificare anche la vicina cappella di campagna dedicata a Santa Maria del Carmine. Il filet rouge è il motivo ripreso con Sauerfair francese per gli interni. Dal volante, di dimensioni ridotte ai sedili, l'impuntura rossa crea uno stacco cromatico con il grigio intenso dell'abitacolo. Tanta luce e molto spazio dell'abitacolo di Peugeot 2008 Black Map contrastano con le dimensioni di una vettura compatta, ideale per esplorare gli stretti vicoli dei paesini arroccati a protezione della pirateria sui primi rilievi dell'SR. L'accecante sole di Calabria chiude le pupille del viaggiatore ed allora il salto temporale nella storia diventa una forte emozione nell'istante dell'ingresso nella Cattolica di Stilo, uno dei più importanti esempi d'architettura bizantina nella regione. Addossata alle falde del monte Consolino, per il suo splendore venne sempre risparmiata dagli arabi, le cui incursioni di saccheggio lungo le coste erano frequenti e temute. Elemento distintivo, studiato con molta attenzione, la firma luminosa di Peugeot 2008 Black Map racconta del carattere volitivo di questa vettura, un perfetto equilibrio dinamico di tecnologia e stile con cui affrontare anche il fuoristrada per cercare di toccare il cielo con un dito. Grazie per la visione!